Oggi scioperiamo con i lavoratori dell'AMS per difendere il servizio pubblico, difendere i lavoratori, difendere i cittadini. Scioperiamo perché l'azienda ha deciso di privatizzare per l'ennesima volta i servizi dell'azienda e purtroppo questa volta coinvolgono anche i servizi essenziali, core, come la raccolta porta a porta nel pentagono del buon talenti. Noi vogliamo il servizio pubblico, qui si sta privatizzando pezzo a pezzo l'intera azienda. Siamo qui, scioperiamo per i precari a cui doveva essere data la stabilizzazione, il contratto a tempo indeterminato e invece l'azienda partecipata ha eluso il decreto di dignità e ha anticipato al 31 ottobre il rinnovo dei contratti per andare contro i lavoratori e andare contro la legge di Maio. Siamo qui per difendere i cittadini da un servizio scadete che non ha nessuna ripercussione positiva sui cittadini di Livorno perché sono costretti a fare una raccolta parpa inefficace. Siamo qui per difendere i lavoratori perché loro subiscono tutti i giorni le ripercussioni della mancanza di sicurezza, si infortunano, si fanno male, malattie professionali. E come ringraziamento l'azienda licenzia, come ha già fatto con un lavoratore licenziato perché abile ma con delle limitazioni.